Profilo, provo a vedere quanto sono pippa in questo gioco. Battle Survival 2 su 19 fat. LOL. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'Universo in Abbey. Io sono Carlitos e qui come c'è? Andrace, ciao ragazzi. Oggi siamo su World of Warplay. Eh, stavi confondendo eh. Ma che bello. Torniamo sugli aerei dopo un casino di tempo per vedere se hanno aggiornato qualcosa, se è migliorato. Eh, devo dire che hanno aggiunto un sacco di roba come per esempio tutte queste nazioni di aerei. Guardate qua quante ce n'è. C'è un sacco di roba, sì. Russi, americani, giapponesi. Poi un sacco di aerei. Inglesi e stanno introducendo anche i cinesi. Quindi tanta roba. Già, la grafica mi sembra davvero pazzesca. Mi sembra bella figa. Già qui dall'hangare i riflessi sono molto buoni. Guardate qui, il sim dell'Udn. Sì, bello. Che figata. Ovviamente con i clan unificati siamo anche su World of Warplay. Esatto. E presto saremo anche su World of Battleship, speriamo. No, Warship. Come si chiama? Warship. Warship, Warship, appena esce. Speriamo. Quindi, non ci ricordiamo mai. Io sono prontissimo con il livello 2. Partiamo subito. Con la R68. Go. Che spettacolo, vedi? Su World of Warplay hanno messo queste cosettine che lo fanno diventare davvero carino. Peccato che su World of Warplay non ci siano. Oh, buona bella la mappa. Che missili. 3 secondi. 2, 1. Via! E siamo in aria. Oh, tu dove sei? Oh. Non ti vedo. Oh, mi avevo a fianco. Eccoti. Come si fa a girare visuale? Ah, tasto a destra. Eccosi lì. Io non mi ricordo più i tasti, sinceramente. Con il tasto centrale del mouse diventi un nemico. Tu fai i target. Ok. Vai come World. Perfetto. Cosa si spara prima? Ma io sparo le navi. Tu sei un cacciacarri. A me è io che icona c'ho sopra, scusa. Eh, aspetta che ora sto per cadere in acqua. Ti ho sorpassato da sotto. Ciao, leone. Oh. Fai la, fai la. Oh. Non li sto facendo più, però, mi sa. Io sì. Oh. Volare? L'abbiamo uccisi? Mi è rimasto una nave. Mi sembra un po' difficile da guidare. Sì. Ok, così. Oh, uccisi tutti. Grande boss. Ora però vorrei uscire a qualcosa che vola. Io andrei su qualcosa che vola. Che manovre. Oh, qui si sparano. Guarda, l'attacco di due. Uuuuh, vai su. Che culo. Io non so se noi dobbiamo sparare a queste, se noi dobbiamo concentrarci su qualcosa. È tutte e due, devi sparare. Uuuuh. Ma le rotte non si possono rimettere dentro? Mi sa, non in questo modello. Uuuuh, 360. Olè. Oh, c'è un aereo lassù. Lassù dove? È a 3000 metri. Lontanissimo. Dai, andiamo a farci qualche aereo. Ci si fa? Ok. Oh, ma dove sono? Oh, mi sa che l'hanno... Mi sa che l'hanno... Boss, c'è un... Oh, oh, aiutami. Dove sei? È in mezzo al mondo. Ci aveva un nemico a 1800 metri, andiamo su quello. Ce ne due che ci vengono addosso. C'è qualcuno che mi spie... Oh, ma perché mi sparano? Cos'è di vita? No, aspetta. Ah, no, quello è quello che mira. Ma, aspetta, non ci sto capendo un cazzo, sinceramente. Eh, eh. Aiuto. Risparo, risparo, risparo. No, ma che è successo? Oddio, mi ha fatto il culo. Anche a me. No. Che brutto. Eh, eh, eravamo due contro cinque. Ah, bene. Su priorità numerica. Guarda come va giù. Boom. Che botta. Ma ora, guarda la cosa figa di quando guardi gli altri. Se aprimi il tasto C, fa le diverse visuali. Poi uno, due, tre, quattro, cinque. Vedi che cazzo li hanno messo di bellino su questo cavolo di gioco. E il 6 cosa fa? Ah, lo visuale 6 dal lato. Guarda che bella. Oh. Ah, no, 6 va a caso. Vedi? Dopo un po' la cambia. Ah, sì, fratele. Che spettacolo. Oh, moto in fiamme. Gli FPS sono davvero ottimi, cazzo. 60 fisio. Cambia aereo. Con cosa? Con la 6. Pruttissimo. Via. Ah, e sono ultime testa di top tier. Ma no, oh, questa è bellissima partita. Oh, se premia a me ti fa la tactical map. Sì, lo so. Spettacolo. Ma guarda che effetti spettacolari. Sì, è fantastico. No, di grafica poi mi piace molto, sinceramente. Io dico, ma perché Watt non c'ha questa grafica qui? Eh, soprattutto guarda che FPS. È vero che magari volando c'è meno roba da caricare. Sì, perché sai le track sulle terreno sono un po'... Ok, oh, questa gira molto meglio. Oh, con il tasto shift mi fa una visuale stramba. Casino. Ah, si, con le bombe. Tu sei con le bombe, eh? Io vado, cerco di andare verso i nemici con quegli altri. Ti seguo, ti seguo. Ah, sì? Ah, bene, bene. Vediamo se i tasti funzionano. Funzionano. Roger. Oh, con più e meno apri la mappa, ingrandisci. Più e meno apri la mappa. Sì, ce l'ho due ingrandite al massimo. Ottimo. Uh, è qui. Ok, c'è gente. Ti vedo. Un po' troppo lontani per me. AR68. Un po' troppo lontani per me. Sì, AR68. Sì, anch'io ce l'ho su quello. Attenzione. Attenzione. Oddio. Gira, 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 gira. Oddio, c'è il carnone lì. Madonna. Pelo. Sali, 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 sali. Oh, l'ho perso. Ah, non l'ho perso. Mi sta seguendo. Il maledetto mi sta seguendo. Oh, oh. No, qui sono in aerea. L'ho distrutto. Ma sei morto, però. No, non sono morto. È quel livello. Uh. Ce l'hai due indietro? Activate boost. Sì, ne ho due. Due, cazzo. Tre, scusa. Aiuto. 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 Spara. Sparalo. Sparalo. Sto sparando a tutti, tranne che a lui. Sì. Oh, un po' di colpi li ho tirati. Però mi fanno male anche a me. Mi fanno male anche a me. Uh, è questo? Vuole le botte? Aia, ma non sono bombe, sono missili questi. Due. A me mi hanno ucciso. Peccato, cazzo. Ho fatto qualcosina, almeno? C'ho i missili, boss. Cazzo, come c'hai i missili? Corrierti. Che carro hai? Guarda, mi vedi? No, non riesco a trovarti. No, li ho finiti. M***e, ne avevo molti. Orca, manca. Oh, eccoti qui. Come tu c'hai i missili con questo coso? Eh, li ho finiti. Uh. Hmm. Stanno massacrando. Sì. Ah, ecco, la vita. La vita in questo gioco te lo fa vedere sotto, mi sa. Ne hai 63 su 75. Eccolo qui, barbaciano. Eccolo. Non ti caga minimamente. Però è bello grande, in teoria ce la dovresti fare. Uh. Guarda come li ne tira. È il boss. Il boss che ne tira anche sugli... È grande. Oh, mi sa che fa... Oddio. Che bello. Guarda lui come... Guarda come sgrilletta l'Andreoni. Ah, sì. Quel culo. Che culo. Oh, mania. Che troppo cucino. Oh, oh. Sì, guarda lui. Distrugge mezzi, colazzati, qualsiasi cosa. Guarda lì. Baciami il culetto lì sotto. Aia. Ma ti muovi solo col mouse o anche con i tasti? Con ID. Giù. Oh, te ne arriva uno, te ne arriva uno. Aiuto. Boia. Che scherzo t'ha fatto? Cish. Ti sei schiantato addosso. Aiuto. Che casino. Che spettacolo. Eccolo. Mettiamo la free cam. La 6. Guarda che figata. Guarda il terzo. Il reone è terzo. Che fande. Terzo, guarda qui. Oh, quelle hanno preso anche le medagliette. Ho fatto la bellezza di 120 danni. Ci sono un sacco di cose qui. È un casino. 120 danni su un'unità di terra. Sì. E 177 su quelle che volano. Proprio così. Normale. Oh, ho fatto anche una kill. E sti cazzi? Aircraft destroyed 1. Uiii. Come sono bravo. Accuratezza solo al 2%. Dove lo vedi? È dettaglio dettagliato. Dettaglio dettagliato. Ah, 31%. Non male. Non male, cazzo. Alla grande, ragazzi. Ebbene. Io direi che questo video può finire qui. Fateci sapere nei commentini se anche voi ci giocate. Se magari più avanti possiamo organizzare di fare qualche raduno. Non so se si possono fare qualche... le botte di addestramento su questo gioco. Ci saranno? Team training, sì. Eh, allora buono. Forse c'è, dai. Eh sì. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Tanti mi piacciono. Ciao ciao. Ciao.